Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Allora, prima di iniziare vi volevo dire che ho deciso di rifare questo video Perché sinceramente quel video faceva schifo già di suo Le gag non erano belle La qualità dell'audio faceva anche abbastanza schifo Non voglio rimettere mai più quel video Infatti l'ho cancellato dal canale perché quel video faceva schifo e non piaceva a nessuno Ecco, quindi ho deciso di rifarlo Ah, e non ci saranno le gag nel vecchio video Anzi, ce ne saranno solamente alcune Però non tutte Anzi, farò nuove gag nel video Forse una... Vabbè, comunque il video sarà completamente diverso da quell'altro E basta Ah, e comunque da pochi giorni c'ho Telegram Quindi posso fare le YouTube poop con una qualità ottima Quindi senza perderci in chiacchiere Iniziamo e buona visione Volevo solamente fare questo disclaimer Gabon vi ha le danze Ora che la maledizione della fata è suggellata possiamo finalmente spezzare il nostro amore Con un boi O sta a macio Sul serio? Sul copione non c'è nessun bacio Ho improvvisato Ho improvvisato Ma perché non esplodiamo? Siamo nello spazio E perché quando stiamo per baciarci siamo nello spazio E per bacio Riccati, ci guardano tutti Per quale motivo devi sempre rovinare? Cambole me Con il riscaldamento pre-discorso siamo a posto No, è un tragico malinteso che sarebbe stato facilmente evitato se solo avessi finito in tempo la frase Sì, sono, c'è un rischio Boneson è una bestia E tu pensi davvero di poter amare? Questo non sei tu Sei tu Ecco cosa provo io Lei era un mostro Lei era un mostro Lei era un mostro Ma lui l'ha resa bellissima Col suo amore